Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Gigio Morra, poliedrico attore noto per il suo ruolo in Un posto al sole di Rai 3, e per la sua versatilità tra cinema e teatro, è scomparso all'età di 78 anni. La notizia è stata annunciata dalla moglie, l'attrice Lucia Mandarini, su Facebook, esprimendo il dolore per la perdita di un uomo dolce e di un grande artista. Nato a Napoli nel 1945, Morra si è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica di Napoli nel 1966 e ha esordito in teatro con Edoardo De Filippo. La sua carriera abbraccia importanti collaborazioni nel cinema con registi come Bellocchio, Moretti, Garrone, Vermiuller e Martone, lavorando in film come Gomorra, Io speriamo che me la cavo, Pinocchio e Il sol dell'avvenire. Morra è stato apprezzato anche in produzioni televisive come Squadra Antimafia 3, Palermo Oggi, Il Commissario Montalbano, Imma Tataranni, Doc Nelle Tue Mani, I Bastardi di Pizzo Falcone e Filomena Marturano. La sua presenza sullo schermo è stata caratterizzata da talento e versatilità, conquistando il pubblico televisivo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, ma il ricordo di Gigio Morra vivrà attraverso le sue memorabili interpretazioni che hanno segnato il panorama cinematografico e televisivo italiano.